Dopo la pausa di Ferragosto e prima dell'inizio della festa di fine estate, con una stretta collaborazione tra Isariz e Proloco di Subbiano, insieme all'amministrazione comunale e alle associazioni locali, il Centro Storico sull'Ungarno di Subbiano ripropone Spirito Divino e si rianima così di nuovo il 23 di agosto in una notte tra neri, bianchi e rosè. Ecco, che cosa avremo in questa sera? Abbiamo la possibilità di ascoltare ottima musica, anche senza acquistare nessun ticket, diciamo l'ingresso è gratuito per tutti. Poi abbiamo la possibilità ovviamente di degustare degli ottimi vini scelti dall'Associazione Sommelier con gli abbinamenti, ovviamente con la nostra gastronomia e i nostri prodotti tipici. Saranno sei degustazioni diverse, a partire dagli antipasti fino ad arrivare al dolce. È un cerchio che parte e ritorna in Piazza Carducci e poi ci sarà anche la possibilità di degustare solamente dei prodotti da mangiare, diciamo senza bere vino, per chi non vorrà, diciamo, bere del vino. Diciamo, ci sono dei vini interessanti, Bellenda, Tormaresca, Braccesca, Girlan e Frescobaldi. Ci sono degli ottimi vini per arrivare alla Chelo, insomma, quindi diciamo che ce ne sarà per tutti i gusti. Novità per quest'anno? Sì, novità ci saranno dei tavolini sparsi per tutto il percorso che potranno permettere alla gente di degustare al meglio e assaporare ancora di più le bellezze sia storiche, paesaggistiche che gastronomiche, diciamo, che noi serviamo. Lo scorso anno quante persone hanno apprezzato Spirito Divino? Ma abbiamo contato più di mille presenze a degustare tra, diciamo, i vini e i ticket gastronomici.